E' la finale di ritorno dei playoff di Serie C, di fronte a Carrarese e Vicenza, si gioca allo Stadio dei Marmi di Carrara, tutto esaurito, 4.600 di spettatori, di cui 820 arrivati da Vicenza. Sblocca subito il risultato la Carrarese, lo scarico di Schiavi, il cross di Zanon, il colpo di testa di Finotto, terzo gol per lui nei playoff, il decimo in totale per Mattia Finotto. Niente da fare per il portiere del Vicenza, Confente, difesa vicentina che però non riesce a chiudere sul cross di Zanon, ne approfitta Finotto. Grazie! Grazie! Votra! 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 V Iscriviti al nostro canale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.